Il covid non allenta la morsa. In provincia di Foggia la situazione è sempre più incandescente. Manfredonia è una delle città con più casi positivi e decessi, ma è anche il luogo dove la gente non rispetta le regole, dove non ci sono controlli e dove l'assenza di una guida amministrativa ha portato la città allo sbando. Ecco il grido di protesta degli operatori sanitari del sistema Emergenza Urgenza, che in Piazza del Popolo davanti all'ingresso del municipio con le proprie ambulanze hanno fatto suonare le sirene per sensibilizzare l'amministrazione comunale ad una maggiore attenzione verso le condizioni di lavoro del personale sanitario e contestualmente vuole essere anche un monito a tutti i cittadini affinché rispettino con maggiore senso di responsabilità le norme anti-covid.